buonasera a tutti questa sera vorrei parlarvi di ficus carica che è la pianta del fico il fico è un albero che cresce comunemente nelle nostre zone e quindi tutti lo conosciamo per la commestibilità dei suoi frutti sono frutti presenti quotidianamente nella nostra alimentazione e esistono di varietà diciamo bianca giallognola e quelli invece color violaceo il ficus carica è uno degli alimenti più antichi della civiltà mediterranea tant'è vero praticamente che le popolazioni primitive lo consideravano un dono degli dei e un segno di abbondanza a noi interessa dal punto di vista della medicina naturale il macerato il macerato si ottiene dalle giovani gemme di fico che vengono poi fatte macerare con alcol e glicerina e producono queste gocce queste gocce di macerato glicerico sono molto attive verso tutto il nostro apparato digerente mi spiego meglio hanno un trofismo elettivo sugli organi sia sullo stomaco sul duodeno che sull'intestino in tutti quei casi in cui noi possiamo soffrire di diciamo problemi irritazioni intestinali colon irritabile gastriti o acidità di stomaco causate da una somatizzazione da stress o da ansia quindi tutte le persone che se sono ansiose agitate nervose per qualche problema che hanno vanno a somatizzare quest'ansia a livello degli organi dell'apparato digerente possono utilizzare con buon profitto le gocce di ficus carica questo macerato può essere somministrato con un dosaggio di 50 gocce prima di pranzo e prima di cena con degli ottimi risultati calcolate che si potrebbe anche abbinare delle gocce di tiglia tomentosa la tiglia tomentosa aiuta proprio a rilassare le terminazioni nervose del nostro apparato digerente quindi due volte la somministrazione di ficus e una volta la somministrazione serale di tiglia possono aiutare molto per questi problemi a livello gastroenterici il ficus carica non ha effetti collaterali quindi può essere utilizzato anche nei bambini un accorgimento ricordate praticamente che non può essere usato nelle persone in gravidanza e non può essere usato durante l'allattamento perché può provocare una diminuzione di produzione del latte arrivederci e buona serata